Torino, Aero Club. In questo nuovo appuntamento della videorubrica parliamo di divulgazione scientifica attraverso l'intervista ad una professionista del mestiere. La scelta della location non è casuale, fra poco capirete perché. Sarà il racconto di una giornata fuori dall'ordinario che riserverà tante sorprese. Siamo qui con la dottoressa Silvia Rosa Brusin, una giornalista che poco ha bisogno di presentazioni, è la madre del TGR Leonardo, quello che va in onda su Rai3, è l'unico appuntamento fisso della televisione realmente che parla di scienza, che lo fa anche in un modo molto certosino. Ci proviamo, ci proviamo da oltre 22 anni perché noi andiamo in onda dal dicembre del 1992 e abbiamo avuto la grandissima fortuna tra l'altro di essere, di nascere proprio nel mezzo di un ventennio favoloso per le scoperte scientifiche. Era partito da pochissimo il telescopio spaziale Hubble, l'anno dopo fecero la riparazione in orbita del telescopio che è stata la missione spaziale più pericolosa dopo la luna e più straordinaria, avventurosa, ma hanno scoperto, hanno decifrato il genoma umano, c'è stata la clonazione e insomma sono avvenute tutte le grandissime scoperte ovviamente recenti, ma tutte concentrate in questo ventennio e tutto questo grazie a grandi investimenti che la scienza nei vari settori aveva fatto in momento d'oro e quindi stava raccogliendo i risultati e noi ci siamo a raccontarli. La RAI ha avuto l'intuizione secondo me grande nel 1991 di dire bene delle redazioni si specializzeranno, quella di Torino si specializzerà nell'informazione scientifica quotidiana. Si comincia con un telegiornale di 10 minuti e poi vediamo, siamo rimasti a telegiornale di 10 minuti però non ci siamo mai fermati, ma buoni e con molto ascolto perché io devo veramente ringraziare i telespettatori perché abbiamo una media altissima, adesso dipende ovviamente dai giorni, però insomma il milione di telespettatori per noi è normale tutti i giorni e siamo in pochissimi. Mi permetto anche di dire un po' una cosa da pubblico, perché il Tg Leonardo è sempre stato quasi un programma di stimolo affinché un giovane, un ragazzo, un bambino anche potesse poi cominciare a studiare, a fare i compiti. Se lei lo dice che è successo questo io ne sono molto orgogliosa. Abbiamo un prodotto del Tg Leonardo. Come è evoluta la divulgazione? Abbiamo notato che in quest'ultimo periodo si assiste quasi a una spettacolarizzazione della cultura, del modo di fare divulgazione anche scientifica, non soltanto in generale. C'è stata un'evoluzione, lei trova un cambiamento? Ma intanto per forza vent'anni fa lei era diverso da adesso, no? Credo tutti eravamo diversi e quindi tutti ci evolviamo, tutti ci evolviamo. Quando noi incominciamo il telegiornale come dico nel 92, le notizie scientifiche avevano pochissimo spazio all'interno dell'informazione quotidiana dei telegiornali ed era questa una sfida, prendere l'aspetto scientifico delle vicende di cui si parlava e spiegarlo. I terremoti, perché, come mai in quel modo, per fare gli esempi più semplici. Oppure trasformare in notizia, capire dove era la notizia dove altri non l'hanno mai cercata, cioè ad esempio nei laboratori del mondo succedevano delle cose, vediamo ad esempio la decifrazione del genoma, ma finché non c'è stato l'annuncio della decifrazione nessuno ne parlava. Noi siamo dei giornalisti scientifici, per giornalista scientifico si intende una persona che trova la notizia all'interno della scienza. e direi che ci fermiamo, perché adesso decolla però, c'è di bello che decolla. Il bello della duretta, ma non siamo in duretta. Alle nostre spalle, o meglio, alle spalle della telecamera c'è un campo volo da cui fra poco vedremo proprio che cosa succede. Ci sono dei velivoli e a condurre questi velivoli sono degli aviatori speciali. Beh, diciamo che il volo qua ha tante declinazioni, ci sono gli aerei tra virgolette grandi, i Cessna, i Piper eccetera, ma ci sono anche gli ultraleggeri che sono degli aerei molto più alla portata di tutti. Di solito sono condivisi con proprietà, tra vari piloti e il volo è una grandissima cosa, una grandissima passione che io capisco. Quindi il decollo di questo signore non solo non mi dà fastidio, ma mi riempie di gioia per lui. E' il WeFly Team, una pattuglia acrobatica italiana unica al mondo e composta da due piloti diversamente abili che volano su aerei ultraleggeri con comandi modificati. Uno spettacolo realmente unico ci sta aspettando. Stiamo dicendo del vostro impegno come giornalisti scientifici in questo... Sì, noi diamo le notizie che non sono di cronaca o di economia, ma sono di scienza. Quindi il nostro metodo è quello che si applica nel giornalismo. Chi, come, dove, quando e perché sono le domande a cui noi dobbiamo rispondere, che sono le domande del giornalismo. Con una difficoltà in più che qualche volta per capire questa notizia ci va un po' una base e allora l'abilità che credo siamo riusciti a mettere insieme, ad acquisire in questi anni sta nel includere nella notizia anche un po' la spiegazione scientifica, cioè dare un supporto per capire, insomma, si parla di geni, cosa sono, quanti sono, perché sono importanti in quel caso. In un linguaggio naturalmente fruibile a tutta la popolazione. Ecco, l'importante in generale, la televisione non è la carta stampata, la televisione è un elettrodomestico che è acceso sempre in una casa, squilla il telefono, le persone parlano, non possiamo contare sempre sull'attenzione, come magari invece le persone che ci stanno guardando in questo momento dal web, che hanno deciso di sentire questa intervista e basta, e la fermano se qualcuno si annoiano oppure se qualcuno li interrompe. La televisione va avanti, quindi noi dobbiamo essere chiari, semplici, sapere 100, dare 10, perché quel 10 è quello che serve per capire e poi, come diceva lei, si approfondisce. Come reputa la proposta, l'offerta televisiva sul costambito, quindi quello scientifico? Il concetto è che la scienza ha dei meravigliosi programmi, che tutti conosciamo, i programmi di Piero Angela, di Alberto Angela, ci sono molti programmi che durano sempre, che va bene anche se vanno in onda a Natale oppure a Pasqua, va bene. Noi siamo più legati comunque all'attualità e alla necessità di spiegare magari le cose in un certo momento, in un certo modo, perché la discussione è quella, per esempio quando c'è stato il referendum sulla fecondazione assistita, noi abbiamo fatto di tutto per essere equidistanti, ma per spiegare esattamente il tema di cui si parlava, su cui le persone avrebbero dovuto mettere una crocetta, su un sì o su un no. Ma torniamo di nuovo in pista. In una calda giornata di maggio, la presentazione dell'ultimo libro dell'astronauta ed aviatore italiano, il comandante Maurizio Kelly, è stata l'occasione per poter ammirare una squadra eccezionale per volontà e capacità. Una bella lezione di vita per tutti. Con la missione futura dell'Agenzia Spaziale Italiana, esattamente un anno fa, l'astronauta Samantha Cristoforetti ha diffuso dallo spazio un messaggio dedicato ai disabili di tutto il mondo. Sono Samantha Cristoforetti e vi parlo dalla Stazione Spaziale Internazionale. Com'è nello spazio ho portato questa bandiera, un simbolo che mi permette di condividere con voi il messaggio di forza, tenacia e determinazione dei piloti del WeFly Team. Io li ho conosciuti qualche anno fa ad un raduno di donne pilota e da allora, grazie alla nostra amicizia, ho potuto apprezzarne le capacità di piloti e le doti umane. e se a terra si muovono in carrozzina. Sull'aeroplano volano ad altissimi livelli. e se a terra si muovono ad altissimi livelli. e se a terra si muovono ad altissimi livelli. Grazie a tutti. Lo slogan dell'iniziativa speciale è stato We Fly con Futura, Osa Volare, per sottolineare che, pur tra mille difficoltà, non ci sono limiti per chi vuole davvero guardare al futuro e realizzare i propri desideri. Grazie ad ESA, Asia Aeronautica Militare, abbiamo realizzato l'iniziativa congiunta We Fly con Futura, Osa Volare. È un'esortazione ad avere la forza e il coraggio di perseguire obiettivi alti, di mettere pienamente a frutto il proprio talento, senza farsi scoraggiare dalle difficoltà. Ma è anche un invito a non appiccicare etichette, a non attribuire limiti ad altri, o tantomeno a se stessi, basati su pregiudizi legati alla disabilità o a qualunque altra categoria. Da quando conosco Marco e Alessandro sono molto più attenti a questo e sono convinta che anche per voi, gli amici di We Fly, saranno una fonte di ispirazione. E allora dallo spazio dico con forza, We Fly con Futura, Osa Volare. Complimenti! Complimenti, complimenti! Ben visto quello che abbiamo fatto, quindi per me è un'emozione tutte le volte, spero che anche per voi sia stata un po' un'emozione vederci e quindi se vi siete emozionati vuol dire che quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto bene. E siete la promessa per questo prezzo. Assolutamente, sì. Complimenti, complimenti. Questa è la presentazione del libro che si chiama Tutto in un istante, che è la descrizione, diciamo, a tappe, grandi tappe della mia vita che è stata improntata alla passione per il volo. E che è poi anche il cuore e lo spirito di questa giornata, perché loro sono animati dalla passione per il volo. E quando uno ha passione nessun ostacolo è invalicabile. E credo che loro siano veramente la più chiara dimostrazione di tutto questo. Quindi con l'auspicio magari anche che l'Italia si faccia portatrice di ulteriori successi, perché tanti ne ha già fatti. Ma ci sono tante cose, c'è Fabiola Gianotti che prende la direzione proprio tra pochi mesi, l'ha presa già, ma incomincerà a dirigere effettivamente il CERN di Ginevra all'inizio di una nuova era. Insomma, i nostri scienziati sono in prima fila veramente ovunque e di questo dobbiamo essere fieri. Speriamo che molti tornino anche. E con molto orgoglio abbiamo avuto il piacere di sentirla la dottoressa Gianotti ed è stata una bellissima chiacchierata anche quella. Una grande donna. Allora noi la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso e per la pazienza che ha avuto nel sopportarmi, telefonatele. Allora alla prossima notizia. Alla prossima notizia, se c'è qualcosa di veramente importante magari ve lo racconto. Grazie, grazie mille. Arrivederci a voi.